signore e signori buongiorno benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo come sempre ben ritrovati nella famosa disordinata biblioteca di metal mike biblioteca nella quale sono infrattati in imboscata un paio di sherman c'è un tigre arenato e un paio di twitter di t34 che aspettano torniamo seri e allora non tutti i libri presenti nella mia biblioteca sono indispensabili non tutti i libri che ho comprato e che acquisto sono indispensabili sono dei grandi libri di storia a volte si sbaglia ad acquistare un libro perché si vuole approfondire un argomento i titoli sono relativamente pochi e si prende un libro ahimè accorgendosi di avere sbagliato acquisto perché in questo caso io ero interessato ad approfondire l'argomento il complesso delicato variegato e complicato argomento dei rapporti tra mussolini e musulmani e l'islam e il fascismo e così mi sono preso questo libro mussolini e musulmani scritto da giancarlo mazzucca in collaborazione con gianmarco walsh un libro che nell'introduzione spiega oggi scrive mazzucca sotto i colpi dei micidiali attentati perpetrati dai terroristi dell'isis tutto il mondo occidentale facendo anche un po' di confusione solo un po' guarda all'islam con un sentimento di odio frammisto a paura e terrore ma c'è stato un tempo in cui l'italia poteva vantarsi pur tra luci e ombre di avere intessuto stretti rapporti con la mezzaluna dopo un corteggiamento durato quasi tutto il periodo fascista il feeling culminò nel matrimonio di tripoli del 20 marzo 37 testimone di nozze italo balbo in sella quando un impettito mussolini eccolo qua in copertina in sella ad uno splendido cavallo nell'oasi di bugara appena fuori dalla capitale libica sguainò come anello nuziale dell'unione italo-araba la famosa spada dell'islam un gioiello in oro massiccio cesellato da artigiani fiorentini e qui ve lo dico io un gioiello che mussolini si attribuì da solo cioè praticamente per chi non lo sapesse mussolini questa carica questa onorificenza della spada dell'islam se la attribuì da solo che poi diciamoci anche la verità come un cattolico difensore della fede cattolica si sia voluto erigere a difensore e spada dell'islam non lo so mi risulta un pochino difficile da capire un pochino difficile da da comprendere comunque sia dicevo dopo il 25 luglio 43 con la caduta del duce nonostante i tentativi di cooperazione con il mondo arabo portati avanti nel secondo dopoguerra dall'eni di enrico mattei quel vecchio rapporto si è molto attenuato se non addirittura dissolto storie del passato che alla luce degli scenari degli anni 2000 appaiono quasi impossibili oggi quel ponte lanciato dall'occidente verso l'islam sembra davvero crollato questo libro cercherà di ripercorrere le strade di un dialogo che nonostante tutto crediamo non si sia ancora interrotto parole dell'autore parole di Gianmarco Mazzuca allora come dice onestamente nell'introduzione lo stesso autore lo stesso Mazzuca non è un libro di storia è un libro di giornalismo storico oggettivamente devo dire la verità per i miei gusti per i miei interessi per il mio bisogno di approfondire la questione devo dire la verità è stata una delusione mi aspettavo molto di più mi aspettavo più chiarezza mi aspettavo meno giornalismo spicciolo mi aspettavo meno pettegolezzi perché questo libro ha il difetto di sembrare a volte preso di peso dalle pagine di una rivista di gossip né più e né meno però è una mia opinione personale ripeto il libro non mi è molto piaciuto perché affronta un argomento così complesso così complicato così difficile come i rapporti tra l'italia e i paesi arabi Mussolini e i musulmani l'islam e il fascismo lo affronto in una maniera secondo me e ripeto sottolineo secondo me molto superficiale un'occasione perduta sicuramente un'occasione perduta per cercare di capire certe cose cioè spiegare anche a certe persone che invocano il cavalier benito come unica panacea di tutti i mali contro l'invasione degli islamici e dei profughi gente non ci siamo proprio ok può essere un utile punto di partenza può essere però ripeto non è un libro particolarmente approfondito non è un libro particolarmente interessante per chi voglia scendere al di sotto della superficie della vulgata delle cose che già si sanno racconta cose che già si sanno non ci sono particolari non ci sono particolari e clamorose novità può essere utile per darsi un'infarinatura sui rapporti tra il totalitarismo mussolignano e l'islam tra il nostro paese e il mondo musulmano all'epoca del ventennio più di questo non credo che ci sia dire se volete leggerlo io non vi dico di no però se cercate qualche cosa di più approfondito forse è meglio rivolgersi altrove quindi miei cari signori io vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e vi dico come sempre arrivederci alla mia prossima video recensione